Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video! Quello di... settimana scorsa? Due settimane fa? Due settimane fa! Due settimane fa è uscito un video su oggetti per la casa di Shein e abbiamo qui altri sei oggetti per la casa di Shein e io credo che... allora, sapete che ho tanti vestiti di Shein quasi tutti i miei vestiti, a parte quelli dei Barbie, sono di Shein ma io credo che le cose per la casa siano veramente fighissime cioè ci sono talmente tante cose e posso dire che molte sono molto utili cioè io ho molte cose in casa di Shein che uso tutti i giorni e devo dire, preparatevi, che queste cose, secondo me, sono tutte utili cioè mio marito non potrà dire ma che ce devi fa' perché queste cose servono, ok? cioè per esempio questa sarà fondamentale in casa nostra e anche questo secondo me, perché non ce l'ho e Francesca invece ce l'ha e adesso ce l'ho anche io e poi questo serve a Luca quindi sicuramente sarà utile questa potrebbe non essere utile ma era troppo bella, io la volevo e allora va bene uguale, è la stessa cosa questa e questo invece potrebbe essere la svolta lo vedremo alla fine questo potrebbe essere la svolta la svolta per me, la svolta per voi non lo so, dobbiamo provare insieme allora, sono tutti oggetti di Shein Home quindi per trovarli potete cercare nella barra di ricerca Shein Home e vi usciranno tutte le cose per la casa di Shein ma io vi lascio anche il mio codice di ricerca che è questo qui se lo inserite nella barra di ricerca vi usciranno tutte cose tra quelle che ho scelto io tutte quelle che secondo Shein a voi possono piacere quindi sarà una ricerca dedicata a voi che state cercando e ci sono delle cose super carine perché come sapete il catalogo di Shein è talmente tanto grande che questa cosa del codice di ricerca vi aiuta a scegliere ma soprattutto se cercate cose per la casa scrivete Shein Home allora, se l'altra volta Luca mi ha detto liberati di tutto ciò questa volta non può succedere perché sono tutte cose che ci servono, ve lo assicuro allora, cominciamo in ordine dalla prima allora, la prima cosa questo ve lo farete regalare tutti per Natale ma secondo me questo potrebbe essere una gran cosa da mettere proprio nella wishlist di Natale anche per fare regali secondo me perché guardate che figo che è però questo è mio, non ho regalo a nessuno questo è mio, personale, voglio io perché Francesca ce l'ha e io non ce l'ho e questo è un macina pepe e sale elettrico quindi sono due macinini però elettrici tra l'altro non ho il sale grosso in casa e appena finirò di fare questo video uscirò per andarlo a comprare perché ho bisogno di mettere del sale qua dentro probabilmente comprerò il sale rosa non lo so il sale rosa è solo sale colorato probabilmente ma è rosa con dispiace allora a parte che c'è anche la basetta per appoggiarli quindi li tieni lì sulla cucina non c'è posto nella mia cucina ma ce lo troveremo allora sono fatti così quindi così e così e ci vanno però le batterie anzi ora cercheremo delle batterie da metterci dentro ci vanno le AAA AAA e volevo provare perché ho il pepe in questo sciocco masino pepe che ti danno quando prendi il pepe tra l'altro non l'ho neanche comprato questo penso che con macinello penso che me l'hanno tipo dato su una box ma ora lo trasferiremo qui dentro e lo proveremo vado a prendere batterie le devo levar telecomando allora ci ho messo delle batterie potrebbero essere scariche perché due erano nuove due insomma cioè quindi non lo so se funziona ci ho messo dentro il pepe e ora stiamo per fare un test lo faremo qua sopra e cioè sono scariche no dai vi prego no allora si può regolare anche più fino meno fino e c'è anche una lucina per vedere dove fai però stupide batterie scariche queste due sono nuove ma due so ciofeca ok le batterie non sono cariche effettivamente evidentemente questo mi sembra ovvio e niente uffa volevo provarlo devo comprare delle batterie cioè gira ma non ce la fa a girare abbastanza perché le batterie sono un po' scariche in effetti qui sotto c'è una lucina che non riesce ad accendersi vabbè ok in teoria è una figata in pratica devo comprare batterie mo tanto esco per andare a comprare sale grosso e compro pure le batterie comunque è fighissimo cioè diciamocelo è veramente un bello oggetto se avessi comprato le batterie sarebbe stato meglio passiamo al secondo oggetto utile in cucina non so se l'altro giorno avete visto un video dove pesavamo le cose e la nostra bilancia pure è lancia fa più effettivamente la nostra bilancia c'ha otto anni forse non lo so l'avevamo presa con una promozione tipo la bilancia di health kitchen solo che si è persa due piedini nel corso dei vari trasloghi e quindi è tutta sbarellante e non lo so è un po' è rovinata insomma c'ha tanto tempo e quindi l'altro giorno girellando su l'app di Shein avendo scritto Shein Home mi sono uscite un sacco di cose per la casa e ho visto questa e ho pensato sarà ora visto che Luca si lamenta sempre più Luca si lamenta sempre della nostra bilancia e dice che fa schifo e mi duele dirlo ma effettivamente c'ha ragione e sto apri i pacchi tipo Luca però non c'ho allora e visto che Luca si lamenta sempre ho visto questa e ho detto cambiamo la bilancia e dentro a questa bilancia ci sono delle pezzette un cucchiaino piccolissimo perché io credo che questa bilancia pesi anche i grammi quindi potrebbe essere per questo che c'ha anche un grammo è la miseria e poi quella che c'ho io no non è così non è così precisa e questa è la bilancia carina molto carina indovinate cosa serve batterie allora aspettate però due sono nuove quindi due funzionano eh per dindirindina ora quali erano è che non so le durace le so quelle un po' così perché mi servivano per telecomando per telecomando bastavano allora vediamo se questa funziona si si accende si accende c'ha i grammi odds ml ct kg tl che è tl non lo so fl odds libre vabbè diciamo grammi ma mi pesa veramente un grammo no dai 12 grammi è bellissima non pesa solo il chilo ma dai cioè se metti chilo ti pesa 110 grammi questo pesa 110 grammi ma poi mette pure grammi e questa pesa 12 grammi ma è super precisa se devi pesare tipo il lievito che so grammi di lievito ma che bella c'è da togliere la pellicolina ma mi sa che gliela lascio fin quando non si rovina è molto molto carina posso dire utile utile perché la nostra a parte che i grammi non l'ha mai pesati e svalvola tantissimo cioè la nostra svalvola proprio tantissimo ovviamente gli puoi fare pure la tara si spegne tenendo premuto ma che carina cioè alla fine la bilancia non è che deve essere una cosa super professional però effettivamente in questa che ha un prezzo piccolissimo ma tanto vi lascio in descrizione tutti i link posso dire fa il suo è leggera e adesso è da comprare batterie per il mio macinapip e vabbè carina carina e Luca non si può lamentare perché la bilancia ci serviva quindi leviamo la plastica e andiamo avanti andiamo avanti allora andiamo avanti con questa questa è una scarpiera allora visto che mio marito si lamenta di me ma voi dovete sapere che Luca ha tipo 4500 paia di scarpe e 4500 non è un numero detto casualmente credo che siano veramente 4500 forse sono le camicie le scarpe saranno un po' meno ma poche meno cioè Luca ha veramente tante 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 scarpe e soprattutto se le mette tutte cioè è uno che si cambia anche due volte al giorno tre volte al giorno ogni volta cambia la scarpa che deve essere intinta con il resto quindi cioè Luca si mette veramente tante scarpe e quindi ce l'ha in giro per tutta casa e questa qui è una scarpiera compatta a 5 riviani quindi ci entrano 5 paia di scarpe che io ho pensato di prendere per mettere in un angolo in camera ora però sto vedendo che è fatta di 7000 pezzi secondo voi io ora ho voglia di montare tutta questa scarpiera con 7000 pezzi non credo allora sono intanto vediamo però chiamola fuori vediamo com'è poi magari la monto e ve la faccio vedere montata in un wiki vlog o nel wiki vlog di domenica prossima però intanto capiamo com'è fatta ecco c'è stata la foto usiamo la foto allora in pratica c'ha i piedini e poi questi cosini laterali e dietro fatti di una tela rigida dove mettere le scarpe posso dire che mi sembra piccola cioè mi sembra che va bene per le mie scarpe ma non per quelle di Luca e credo cioè è corta è troppo corta per le scarpe di Luca è da femmina cioè da 38 al massimo Luca porta 43 perché se questa è la parte sotto dove va appoggiata la scarpa più che la mia non c'entra test e vedi avanza mezza scarpa fail cioè non fail forse va bene per se avete bambini quindi per mettere le scarpe dei bimbi o al massimo le scarpe da donna proveremo un po' aspetta me levo la scarpa eh guarda già il 38 c'entra a pelo credo che non la monterò allora e la regalerò alla mia amica che ha i figli e gliela monta in cameretta a sto punto facciamo così peccato però mi pare di aver capito che il sistema di montaggio è quello dalla foto e quindi vuol dire che avanza un pezzetto cioè sicuramente c'è un po' di margine dove non c'è la tela però ho paura che non sia abbastanza grande per le nostre scarpe e quindi visto che non ho posto per mettere una cosa che non sia funzionale in camera questa la incartiamo e la regalo alla mia amica coi figli che ci mette le scarpe dei figli e sarà perfetta allora andiamo avanti queste due cose vanno insieme allora sapete che poco tempo fa ho preso una cosa che sto usando letteralmente tutti i giorni e devo dire che è una delle cose più utili che ho preso sul web negli ultimi tre anni perché io sono una che beve pochissimo cioè roba che a me una bottiglia d'acqua da due litri mi può durare tre giorni cioè io bevo proprio poco mi scordo di bere non mi viene voglia di bere e bevo pochissimo io avete visto il video ho preso questa e l'ho presa su shin e regà l'ho usata e più cioè anche adesso è pieno d'acqua l'ho usata tantissimo la uso tutti i giorni spesso ci faccio la tisana freddo perché molti giorni fa anche caldo però insomma non è abbastanza da giustificare bevande calde e così tante l'acqua rimane fredda per ore cioè non mezz'ore ore tipo tre quattro ore che te mo esco torno e l'acqua è ancora fredda e la sto usando veramente tanto ok adesso c'è solo acqua ce l'ho messa un'ora e mezza fa è ghiacciata cioè l'ho presa dal frigo l'ho messa dentro è ancora fredda fatto sa che io l'avevo scelta beige perché ho detto vabbè poi la posso personalizzare è tipo un bianco sporco l'altro giorno però scegliendo le cose su shin home col codice di ricerca ovviamente mi ha fatto vedere cose che mi potevano piacere sono una vittima del marketing e quindi sgrufolando ho visto questa e ho pensato non so perché io l'abbia scelta beige un'altra volta se esiste anche rosa sono identiche sono identiche si sono identiche però queste fucsie e non potevano prenderla anche fucsia posso dire però la sto usando talmente tanto che alla fine non mi sembra un oggetto sprecato nel senso che è comunque questa c'è la canuncia più corta di questa però sono veramente identiche ce ne sono 100 milioni su shin e non costano tantissimo e posso dire a me mi ha veramente cambiato la vita nel senso che nell'ultimo periodo ho bevuto almeno 2 litri d'acqua al giorno la capienza dovrebbe essere circa un litro un litro e due forse un litro e due quindi cioè bevi due borracce di questa al giorno e stai a posto è troppo bella e ci sono per questa tutti i vari gadget per decorarla cioè ancora non ho ordinato ciondolini e ciondoletti da mettere a questo punto forse su questa fucsia e non su questa bianca mi sembra un po' più grande non lo so ce ne stanno veramente tantissime quindi poi scegliete la dimensione che preferite le fanno anche un po' più piccole scegliete il colore che preferite e la dimensione che preferite vi avevo detto che avrei voluto ordinare tutte le cose per accessoriarla perché vendono una marea di accessori la borsetta la cosetta i ciondolini da picca qua i ciondolini da picca qua le lettere un sacco di cose voglio prendere assolutamente le cannucce in vetro o in acciaio per cambiare questa di plastica ma nel frattempo perché devo farlo ancora quell'ordine nel frattempo ho preso questa regà questa è la borsa cioè tipo se andate a camminare e vi volete portare questa voi potete prendere aspettate però questa rosa la teniamo così prendere la vostra borraccia prendere questo inserirla ma è bellissima la rosa la lasciamo rosa chiaramente stringere qua quindi avete la vostra borraccia qui ci potete mettere il telefono poi qui ci potete mettere che ne so le carte i soldi per andare a camminare me lo immagino quindi sto camminando tantissimo quando gioco con i pokemon e poi ci attaccate la tracolletta e ve la portate come se fosse la vostra borsa cioè andate a camminare ma anche in palestra magari no? ve dovete portare le chiavi dell'armadietto il telefono e invece di portare una borraccia normale ve portate questa ve la mettete sotto braccio avete la vostra borsetta borraccia con porta cellulare e portacarte è bellissima dai su cioè allora questa rosa è sprecato avvolgerla ma questa è bellissima poi diventa grigia cioè grigia è bellissima molto meglio che beige mmm tutto un altro sapore se la tua borraccia è una borsa ma va bene sappiamo che siamo tutti qua per il pezzo forte e non è un pezzo forte qualunque raga cioè è una cosa che se funziona mi cambia la vita come avete notato i capelli mi sono cresciuti tantissimo in questo ultimo periodo cioè non so se vi ricordate ma io a marzo sono stata in crociera così l'ho fatto con sta crociera prima di andare in crociera avevo fatto i capelli viola e i capelli viola arrivavano qua cioè vuol dire che da marzo ad oggi i capelli mi sono cresciuti tanto così cioè i capelli viola erano corti al collo proprio quindi io ho i capelli molto più lunghi molto più lunghi molto più lunghi anche perché non sto usando praticamente più la piastra ma uso le spazzole phon lo sapete ne ho diverse ma adesso ho la spazzola phon definitiva credo ora la proviamo insieme questa è la spazzola phon diciamo di un marchio noto che non saremo qui a nominare ma vediamo se A funziona B so farla funzionare io perché è questo il problema e lo sapete non sono bravissima con i capelli però ci proviamo perché se funziona è la svolta perché i capelli questi sono solo asciugati con la spazzola phon quella piatta e basta senza farci pieghe o niente lavati stamattina asciugati stop vediamo perché questa potrebbe cambiarmi la vita allora nella confezione c'è il guantino la sacchetta per riporre tutto che proprio il belluto lo devono fare questi sono tutti gli accessori poi c'è la spazzola tonda che funziona sempre da phon questa non mi fa impazzire perché nei miei capelli forse per i capelli più lunghi sì ma per i miei capelli non mi fa impazzire ma non ho scelto questo oggetto per quella poi c'è il diffusore e va bene anche questo non ci serve poi c'è eccola la spazzola piatta e questa sì perché mi piace tantissimo la spazzola phon piatta che è molto simile a quella che uso già per farmi i capelli di solito quindi asciugo i capelli con il phon normalmente quando sono praticamente quasi asciutti ci passo questa e mi leva il crespo senza però starmi a fare la piastra che mi sporca di più i capelli me li rovina me li spezza me li brucia quindi spazzola phon questo è il beccuccio per usare l'apparecchio come un phon classico mamma mia sono contenta chissà se ci riesco adesso faremo un test poi faremo altri video più avanti questo è l'apparecchio in sé che tra l'altro si può direzionare in diverse posizioni non ho capito così per usarlo come phon e così per usarlo con questi signori e signori i coni allora intanto come faccio a capire qual è il cono di destra il cono di sinistra c'è la freccia allora io non so capace partiamo da questo però avete capito che cos'è ok dovrebbe servire per fare il mosso ai capelli adesso noi la picchiamo qua me l'ho portata allo specchio cioè so tre giorni che ho sto pacco lì volevo assolutamente provarlo ma ho detto facciamo una reaction live questo specchio pure l'ho preso su shinom c'è anche la luce è bellissimo lo amo lo sto usando tantissimo poi vediamo un po' vediamo un po' allora in teoria questo accrocco serve che tu prendi una ciocca dei tuoi bellissimi e sanissimi capelli nel mio caso non sono sanissimi tu prendi una ciocca scusate il verso qual è? vabbè provate accendi la presa perché se no non funziona fai così non sono capace ok 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 aspettate eh ma tocca piaccia la mano mi sa eh io non so forte su ste cose sì ma no cioè nel senso non sono capace non capisco come funziona vi prego qualcuno lo sa fare io credo che questo sia il più grande epic fail di questo canale ma io credo che funzioni il problema sono io che non so farlo funzionare oh aspettate qualcosa è successo allora qualcosa è successo non so se si percepisce però non quello che sarebbe dovuto succedere secondo me cioè nel senso secondo me è una cosa molto più che te dovrebbero venire molto più facilmente ci devo assolutamente prendere la mano io credo che sia fattibile però non so capace cioè dipende da me perché vedete cioè se fa se fa se fa ma non so capace aspettate vi faccio vedere invece l'effetto spazzola perché secondo me l'effetto spazzola è una bomba quindi voi asciugate i capelli normalmente col phon e poi l'effetto spazzola per me è il futuro tra l'altro è fighissimo la sera vai a dormire la mattina non so voi ma io mi sveglio con dei capelli orribili cioè io quelle che si svegliano con i capelli in pieda non li capisco invece così quando la mattina mi sveglio io di solito per aggiustarli ci passavo la piastra era l'unico modo con la spazzola phon gli dai una pettinata con la spazzola phon accesa e i capelli te ristanno in piega cioè è incredibile fai la piega in 5 minuti prima di uscire di casa te leva il crespo te leva le forme del cuscino quindi spazzole phon atomiche ora io devo solo imparare a usar questo perché vi giuro cioè è il sogno della mia vita avere i capelli un po' mossini ma non so capace e l'unico modo in cui mi vengono un pochino ecco la piastra ci metto 7 ore e alla fine non ci riempio cioè mi si rovina i capelli invece con questo mi piacerebbe un sacco dargli un po' di volume devo imparare devo imparare assolutamente voglio imparare a fare questa cosa quindi se avete dei consigli scrivetemeli nei commenti su come fare io intanto mi vedo un po' dei tutorial ma cioè mi sembra un buon prodotto devo solo capire come funziona pare facile vabbè ecco questo perché io sono a schiappa semplicemente con le cose per i capelli lo sapete trucco i capelli però mi piace allora la spazzola mi piace tanto quindi ora l'altra la frullo e uso solo questo metto una cosa sola in bagno e uso solo questo e bello mi piace e sono contenta allora a parte il fail dell'assenza delle batterie per il macinino e il fail del fatto che questo cosa non lo so usare super promossa la borraccia se avete occasione compratevi una di quelle borracce perché so al futuro anche lo specchio in realtà pure se non c'entra niente con questo video ma sempre su Shinome l'ho preso cercate nella barra di cerca Shinome per trovare tutte queste cose e molte molte altre soprattutto in questo periodo cominciano ad esserci gadget di halloween e soprattutto cominciate a pensare alle cose per natale vado a mettere a posto in cucina la bilancia e anche il macinino esco e vado a comprare batterie e quindi vi ricordo il codice di ricerca per cercare le cose che più vi piacciono su Shinome da questo video spacchettamento di oggetti per la casa di Shin è tutto e noi ci vediamo al prossimo video ciao